Anche Chietiscalo da fine settembre potrebbe avere il suo mercatino dell'antiquariato, c'è infatti in cantiere un progetto di questo genere? Crediamo fermamente nei mercatini che caratterizzino la nostra città, che possano caratterizzare la nostra città in tutte le sue aree, abbiamo come ricorderete indetto da più di un mese un avviso proprio per il mercatino di Corso Marruccino, ci accingeremo a settembre ad affidare il servizio, ma come diceva correttamente la nostra idea insieme al nostro sindaco è quella di realizzare un mercatino anche nella parte bassa della città, in quel di Piazza dei Marconi, ovviamente in maniera complementare sia in termini di categorie merceologiche sia in termini di giorni. E potrebbe tra l'altro essere dislocato in giornate diverse da quello che è il mercatino dell'antiquariato a Chieti? Certamente perché il mercatino di Corso Marruccino è previsto per il quarto weekend del mese, per quello di Chieti Scalo in via sperimentale proveremo a farlo il secondo weekend del mese, anche dal punto di vista merceologico, quello del Colle sarà più incentrato sull'antiquariato, quello dello Scalo avrà un focus sul collezionismo. Insomma noi crediamo molto nei mercatini di tradizione che possano veramente implementare le presenze in città che già sono crescenti grazie al lavoro che come amministrazione e con il lavoro del collega De Cesare stiamo facendo sugli eventi. Noi come Assessore del Commercio crediamo che questi aspetti legati all'attività mercatale possano caratterizzare un territorio, possano rappresentare motivo di indotto positivo per tutto il comparto e quindi siamo al lavoro per chiudere questi due appuntamenti, il primo chiaramente già in settembre, il secondo tra la fine di settembre e i primi di ottobre.